L'ente Alta Vita Ira, che gestisce quattro case di riposo IPAB tra Padova e Selvazzano, è tecnicamente fallito. Questo secondo l'ultimo bilancio disponibile, quello del 2013, chiuso con quasi 7 milioni di buco. È un ente che ha quasi 7 milioni di euro di buco nel bilancio. Un buco che è certificato dalle ispezioni fatte dalla Regione Veneto e quindi sono stati dati dei bilanci completamente falsi. Questo è un reato e infatti il fascicolo è già stato trasmesso alla Procura della Corte dei Conti. A stabilirlo, dicono i grillini, c'è una relazione fatta a febbraio 2015 dagli ispettori della Regione e portata a dicembre dalla Corte dei Conti di Venezia. Il Movimento 5 Stelle pertanto chiede l'immediato azzeramento del Consiglio di Amministrazione e il commissariamento dell'ente gestito oggi dal medico Stefano Bellone, prima ancora da Tino Bedin, ex senatore della Margherita, nominati dall'ex sindaco Flavio Zanonato. I bilanci, spiega Berti, sarebbero stati falsificati facendo comparire alcune vendite che però non erano mai state effettuate. Loro hanno speso soldi che dicevano di aver ricavato da vendite di immobili, ma in verità questi immobili non li avevano mai venduti, mai venduti, però dicevano di averli venduti e questi soldi li scrivevano nel bilancio, ma la cosa incredibile è che li spendevano. Nel frattempo l'ente ha esternalizzato i servizi di cucina e lavanderia. La vicenda alta vita IRA era già avvenuta alla luce circa un anno fa quando il sindaco di Padova Massimo Bitonci aveva denunciato la situazione chiedendo l'intervento degli ispettori della regione. È una domanda che vogliono fare al sindaco. Come mai queste ispezioni che mostrano chiaramente che l'ente è stata gestita in maniera fraudolenta sono venute fuori alla luce? Siamo voluti arrivare noi?